Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare l'incarico di eliminare giocatori in modalità spie come noi. Avviate una nuova partita in modalità spia e assicuratevi di essere ovviamente la spia, quindi se all'inizio della partita vi dice you are a spy, allora potete completare l'incarico. Tutto quello che dovete fare è eliminare dei giocatori, quindi vi avvicinate una volta che avete la possibilità naturalmente di eliminarli, ucciderli, e li fate secchi. Quindi vi avvicinate e premete il dorsale per sparare. Quindi in questo modo qui, però non posso farlo per adesso, quindi devo aspettare che mi dia la possibilità. Appena mi da la possibilità, ecco qua, scatouche. Il giocatore è eliminato, quindi voi attendete che altri giocatori sono fermi ad analizzare i vari oggetti e li uccidete. In questo modo qua, vedete? Vi avvicinate e li uccidete.